o no io vuoi? sei triste? beh un pochino si sei triste o no? ma tu sei triste? sì perché? no non piange no dai ma che sopra le moroidi? non piange non piange guarda tutto sopra le moroidi? le moroidi le fai tu? era con un pochino dai un bacetto dai un altro su un altro dai guarda tutto dai che ci vediamo presto non ti preoccupare? ti videochiamo eh? sì sì va bene? sì sì un bacetto un altro un altro beh basta beh come mi saluti di solito? dove andà? affanculo adesso sì adesso sì adesso sì mi raccomando stasera prega anche santa lucia quello è sicuro eh? sennò il brusso la mia domina quello che è è vero sennò il brusso la mia domina